La cosa più preziosa che abbiamo da maniera retorica è il tempo, credo che nessuno ci può dare il tempo indietro, la vita è molto breve, nessuna assicurazione ci può riformare il tempo, credo che in amore è un amore lungo, che vive di rimpianti e di rinfacciamenti, il tempo è una cosa che dura a regerire, in questo caso è una persona che offre, che rioffre il suo tempo alla persona amata e che coltiva il suo amore come un lutto, dice come la dama insomme che colla un lettino vuoto, vediamo indietro, grazie. Grazie 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 Vita qui dietro il tempo, un altro mondo è mezzo. Vita qui dietro il tempo, il tempo prenderà. Vita qui dietro il cuore, un altro mondo è mezzo. Vita qui dietro il tempo, un altro mondo è mezzo. Vita qui dietro il tempo, un altro mondo è mezzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.